Hai mai pensato che Napoléà del grande Pino Daniele potesse essere un plagio di immagine di John Lennon? Esatto, hai capito bene. Ma prima di saltare a conclusione affrettata, ascoltiamo prima i due brani e scopriamo la genialità dietro a queste due composizioni. Questa è Napoléà. Ok, ora ascoltiamo invece Immagine di John Lennon. Hai capito? Allora, ora che cosa c'è in comune tra questi due? Te lo mostro, guarda. Quando abbiamo la progressione Do che va verso Fa maggiore, nel caso di John Lennon, oppure Re maggiore con la settima maggiore che va a Sol con la settima maggiore, in realtà loro stanno usando un concetto che io chiamo di figurine musicali. Esattamente, in realtà non è che devi imparare una canzone sempre pensando agli accordi Re, Sol o Do e Fa, ma capire il segreto dietro, cioè riconoscere la sensazione che questi due accordi qua ti danno. Ed è esattamente la stessa sensazione che Pino Daniele ha usato per portarci la sua genialità su Napoléà, la stessa anche che John Lennon ha usato. E se vuoi scoprire esattamente come è il loro segreto, e non solo dipendere dagli spartiti online, guarda la lezione che è uscita, la numero 6 della Maratona Pianistica, il link è nella bio. Grazie. Grazie.